signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale abbiamo passato tutta questa stagione fondamentalmente a parlare di dungeon mega dungeon e queste campagne basate sull'esplorazione di ambienti e un paio di mesi fa io vi avevo chiesto se poteva essere interessante fare un riassunto di tutto quello in cui avevamo parlato e fare magari anche un esempio pratico di mega dungeon per vedere come tutte queste cose si combinano assieme quelli che sono col canale dall'inizio probabilmente ricorderanno la serie la pratica rende perfetti ho quindi chiesto direttamente a voi del pubblico di mandarmi le vostre proposte di mega dungeon per metterle tutte assieme e creare una sorta di video riassunto collettivo in realtà due video perché il materiale che avete mandato è veramente tantissimo ma di questo ne parleremo dopo di roba da dire ce n'è comunque moltissima quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la prima parte del mega riassunto del mega dungeon inoltrandosi nelle profondità della grande regione gelata dove le temperature si fanno più estreme le possibilità di sopravvivenza sempre più esigue ci si imbatterà con frequenza sempre maggiore nelle carcasse metalliche di quelli che erano i servitori degli antichi seguendo questi resti si raggiungerà ben presto la grande voragine sul cui fondo giace inumata nel ghiaccio l'antica metropoli di babbillis negli ultimi anni sempre più spedizioni hanno cercato di raggiungere i suoi livelli più bassi in pochi sono tornati ma quelli che l'hanno fatto hanno portato con sé favolosi tesori magici di un'era dimenticata assieme a racconti di costrutti viventi creature bizzarre e una giungla abitata da umanoidi primitivi c'è chi racconta che a decine di chilometri alla superficie man mano che ci si avvicina al cuore incandescente del mondo giace a una creatura il sognatore che custodisce il segreto su che cosa ne è stato degli abitanti originali del dungeon e perché sembrano essersi volatilizzati nel lulla migliaia di anni fa questa è l'idea di base del nostro mega dungeon che è praticamente la somma di tutte le idee che sono arrivate e che in questi due video andremo a esaminare nel dettaglio e esplorare come esempio cominciamo da questo primo video in cui andiamo a vedere gli aspetti più meccanici del mega dungeon che possano servire come base a voi master per creare le vostre meccaniche di esplorazione per il vostro mega dungeon il nostro mega dungeon sarà diviso in tre zone principali ognuna delle quali avrà poi due sotto zone al suo interno il livello più alto saranno le rovine di quella che un tempo era un enorme megalopoli che adesso giacciono sul fondo di un cratere gelato che rappresenterà il limite superiore del mega dungeon e il cratere stesso sarà il limite della mappa di gioco per quanto riguarda la superficie qui la divisione in sotto zone sarà data fondamentalmente dalla presenza o dall'assenza di un cielo sopra le teste dei giocatori perché la prima sotto zona sarà proprio il fondo del cratere dove ci sono ancora le rovine e gli antichi palazzi che sarà a cielo aperto e sarà fondamentalmente un enorme labirinto di pietra che sarà fatto da questi palazzi diroccati mentre la seconda sotto zona saranno quelle che sono le fondamenta della città e in realtà tutti gli strati che da lì vanno a scendere che invece saranno un dungeon molto più classico cioè una struttura artificiale sotterranea fatta da camere e corridoi. Ovviamente i due strati saranno connessi tra loro sia da crepacci e spaccature naturali che hanno aperto quello che una volta era il pavimento della città e da cui ora si può accedere ai livelli sotterranei ma anche da scale, carrucole e altre strutture artificiali che fanno o parte delle rovine o sono state costruite nuove per facilitare l'esplorazione. Nello strato di superficie sarà inoltre presente una serie di accampamenti delle piccole città di frontiera gestite da gilde di mercanti o famiglie nobili che potranno fornire da punto di partenza per i giocatori a cui esplorare da campo base sicuro per l'esplorazione della superficie dei primi livelli o semplicemente dove possano andare a scambiare merci e servizi con i tesori che hanno recuperato. Oltre alle rovine dell'antica civiltà entrambe queste zone saranno caratterizzate da delle temperature estremamente basse quasi sicuramente costantemente sotto lo zero e quindi i giocatori potranno incontrare mostri e animali tipici del clima artico che magari si sono rifugiati in quello che adesso è il dungeon. In più anche costrutti meccanici che sono stati lasciati lì dagli originali abitanti del dungeon anche se ora si è perso il motivo per cui lo sono. Al di sotto di questa zona iniziale in quello che sarà il bioma intermedio del dungeon ci sarà lo scontro tra l'aria fredda e il ghiaccio che scendono dalla superficie e l'aria calda e il magma che salgono dalle profondità quindi al centro si verrà a creare un enorme zona estremamente umida e calda dove i due sotto ambienti principali saranno da una parte una fitta giungla tropicale ma sotterranea e dall'altra un enorme lago e una circostante zona paludosa formato proprio dallo scioglimento costante dell'acqua della superficie. La giungla sarà abitata da una flora e una fauna tipica di un ambiente pluviale ovviamente adattata alla vita di profondità quindi magari creature della giungla ma cieche e albine e da una comunità di uomini rettili mentre il lago avrà anche lui una sua buona parte di creature pericolose marine reschinate per essere pesci abissali e cose del genere più una comunità stanziale di uomini pesce divisi in vari villaggi anche se in misura minore anche in questa zona saranno presenti le rovine dell'antica civiltà che spuntano dal lago e dalla giungla e una di queste sta venendo risistemata e resa nuovamente abitabile da una comunità di abitanti della superficie che si sono trasferiti in questa zona che potrebbe diventare un possibile campo base per gli avventurieri quando si sposteranno più in profondità nel dungeon per estorare le zone più basse o anche come possibile punto iniziale della quest se si vuole iniziare direttamente all'interno nel dungeon e non dai livelli più alti scendendo ancora più in basso si arriverà alla terza zona del nostro mega dungeon quella più vicina al nucleo del pianeta e quindi ricca di calore che sale dalle profondità una zona particolarmente ostile caratterizzata da altissime temperature più un ambiente vulcanico quindi sfoghi magmatici colate laviche gas velenosi che emergono dalla profondità e tutte le altre caratteristiche tipiche di un pomeriggio all'inferno in questo caso le due sotto zone saranno rappresentate da una parte da una serie di piccoli insediamenti minerari abitati principalmente da nani e altre creature del sottosuolo che stanno sfruttando le risorse minerarie dello strato più basso del dungeon circondati da quella che sarà una vera e propria area continua di terre selvagge in cui sarà possibile incontrare vari mostri adatti a vivere in temperature estremamente calde magari elementari del fuoco altre creature del genere ma anche comunità di banditi predoni araziatori che potrebbero rappresentare un ulteriore pericolo per gli avventurieri e un potenziale nemico che renda ancora più difficile l'esplorazione della zona più bassa di tutte dopo tutto queste saranno le nostre terre selvagge quindi sembra ovvio metterci i banditi a queste tre zone principali dovremmo andare ad aggiungerne poi altre due che meritano di essere discusse separatamente per via delle loro caratteristiche la prima sarà formata dalle rovine vere e proprie di quella che era la megalopoli di babyliss tutte le rovine urbane che costellano principalmente la zona più alta del dungeon ma che in realtà saranno presenti in tutta la struttura questo sarà uno dei luoghi di interesse principale per l'intera esplorazione del mega dungeon perché si tratterà molto probabilmente di mini dungeon o semplicemente dungeon più piccoli all'interno del mega dungeon stesso in cui il master potrà mettere tesori e conoscenze per i giocatori sia che si tratti di tesori vere e propri oro e oggetti magici sia che si tratti di conoscenze incantesimi cosa del genere ma anche conoscenze legate alla storia e alla mitologia che c'è dietro la grande voragine di babyliss potenzialmente è in questo tipo di zone che gli avventurieri verranno per scoprire l'enigma del dungeon cioè che cosa è successo all'antica civiltà che lo ha costruito originariamente se questa però sarà una zona di esplorazione estremamente classica il proprio il dungeon una struttura di pietra sotterranea avremo poi una zona virtualmente opposta perché lungo tutto il dungeon si apriranno apparentemente a caso dei portali planari chiamati le gallerie del sognatore queste gallerie saranno connesse tra di loro e percorrerle richiederà molto meno tempo di quello che servirebbe a percorrere la stessa distanza tra i due accessi nel piano materiale in pratica queste gallerie collegheranno vari punti del dungeon e permetteranno ai giocatori di spostarsi da un'area all'altra in maniera molto più veloce di quello che farebbero semplicemente percorrendo a piedi la distanza e separare due porte questa attività però non sarà del tutto priva di pericoli perché per quanto permetta ai giocatori di spostarsi rapidamente il contrapasso sarà che la zona potrebbe diventare estremamente pericolosa dato che le gallerie del sognatore esistono su un altro piano in esistenza che non è abitato dal sognatore è il sognatore questa creatura qualunque tipo di creatura sia data che le sue dimensioni sono così inconcepibilmente enormi che non è neanche chiaro che cosa sia per gli abitanti del piano materiale esiste in un piano coadiacente a quello della grande metropoli e quando i giocatori entreranno in uno di questi tunnel letteralmente attraverseranno il corpo del sognatore per uscirne da un altro orifizio diciamola così e se questo non fosse anche abbastanza disgustoso di per sé all'interno del sognatore vivono creature ancora più strane e ancora più pericolose alcune di queste sono dei mostri che vivono in simbiosi con il sognatore e altre saranno parti del sognatore stesso il sistema immunitario della creatura che reagisce ai corpi esterni che sono entrati anche se quei corpi sono i corpi degli avventurieri che probabilmente cercheranno di difendersi in maniera più che violenta da questi attacchi per gli avventurieri trovare quindi un punto d'accesso a una di queste gallerie del sognatore sarà un'arma a doppio taglio da una parte potrebbe permettergli non solo di muoversi rapidamente ma magari di accedere a un'area del mega dungeon che per loro al momento sarebbe altrimenti inaccessibile ma dall'altra vuol dire rischiare un percorso che sarà quasi sicuramente più pericoloso di quello che potrebbero fare nel piano materiale mettendoli di fronte alla scelta se fare le cose con più calma o se tentare la fortuna questi due tipi di terreno speciale mettiamola così andranno a formare da una parte le zone più pericolose del dungeon per il sistema immunitario del sognatore e i costrutti che difendono le rovine ma anche quelle più ambite dai giocatori perché da una parte avranno i tesori dall'altra possibilità di movimento strategico sulla mappa di campagna e in più potrebbero essere vicine o essere a se stesse il luogo di strutture particolari mini dungeon e tutte quelle altre zone specifiche del dungeon di cui il master ha bisogno per ambientare la sua specifica trama la sua specifica quest un mini boss particolare o quant'altro nel materiale che mi è stato mandato per questi video ci sono più di due dozzine di esempi di specifiche locazioni del genere ma andarla a descrivere tutte anche solo rapidamente sarebbe veramente troppo lungo e questo video è già mostruoso ne parleremo più avanti di questo parleremo ovviamente nel prossimo video però diciamo che anche solo con il materiale che mi è stato fornito un paio di dozzine di quest ambientabili in queste zone erano già possibili per chi comunque non volesse rischiare il collo camminando attraverso una gigantesca bestia extraplanare il dungeon avrà poi tutta una serie di collegamenti interni molto più prosaici in cui i parti di avventurieri potranno andare a morire in maniera molto più banale i vari strati della zona più alta come già detto saranno collegati tra di loro sia da scale e altri accessi che erano stati costruiti già all'epoca in cui non era ancora stata abbandonata la metropoli ma anche da carrucole e altri strumenti che sono stati costruiti più recentemente proprio per l'esplorazione senza contare che in molti punti la superficie sarà proprio crepata e quindi ci saranno delle spaccature che permetteranno di accedere al cielo anche dai livelli più bassi del primo strato per permettere ai giocatori un accesso diretto senza dover fare i piani iniziali o magari una fuga precipitosa se si sono imbattuti in qualcosa che non sono in grado di affrontare negli strati più bassi della zona superiore verranno a formarsi poi punti in cui emerge l'aria calda alla profondità e quindi il ghiaccio comincia a sciogliersi e man mano che gli avventurieri scenderanno incontreranno prima semplici rigagnoli d'acqua ma man mano che scendono i rigagnoli cominceranno a convergere tra di loro diventando veri e propri fiumi sotterranei principalmente verticali che vanno poi tutti a confluire nella grande zona paludosa del lago sotterraneo questi fiumi saranno estremamente in pendenza e probabilmente pieni di cascate quindi non saranno delle vie d'acqua così facili da superare però magari potrebbero esserci anche lunghi tratti in cui per quanto in pendenza non sono così rapidi da non poter essere navigati magari con piccole imbarcazioni per collegare magari qualche piano con un piano inferiore ci saranno poi vari collegamenti meno verticali lunghe gallerie spiraleggianti che sono quelli che sono stati scavati dalle macchine degli antichi e che adesso sono le principali vie di comunicazioni tra la strato più alto da dove arrivano gli esploratori e la colonia che si è venuta a formare nello strato intermedio non saranno scevri di pericoli ma saranno comunque gli accessi più facili e diretti agli strati inferiori anche se probabilmente saranno quelli che richiederanno più tempo per essere percorsi non necessariamente saranno i più sicuri perché più una zona è trafficata più è probabile che attiri sia predatori che malintenzionati quindi non sarà una passeggiata neanche scendere attraverso i tunnel più grandi a collegare invece la zona intermedia con la zona più profonda ci saranno anche in questo caso vari rigagnoli d'acqua molto più sparuti che nel corso di secoli hanno scavato dei percorsi dal grande lago fino a scendere nelle profondità dove rievaporano per poi tornare a ricongelarsi nel primo strato ma oltre tunnel scavati dalle grandi macchine scavatrici le comunità di minatori hanno riaperto strade o creato intere nuove gallerie per creare le loro vie carovaniere verso la colonia dello strato intermedio e da lì verso la superficie questi passaggi saranno molto più sporadici anche molto più angusti e saranno pieni di pericoli naturali e di predoni malfamati questa dopo tutto sarà la zona più estrema del nostro mega dungeon e anche per percorrerla di per sé diventerà un'avventura interessante possiamo quindi dire che questi sono i macroelementi fondamentali che servono al funzionamento dell'ambientazione potenzialmente già così sarebbe giocabile avete delle zone avete delle possibilità di movimento tra le zone avete un abbozzo di quello che si può trovare in queste zone adesso però sarebbe il momento di dargli una caratterizzazione vera e propria e renderlo peculiare ma di questo come ho detto parleremo nel prossimo video prima di chiudere voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito dovreste vedere qui scorrere i loro nomi parleremo la settimana prossima nel dettaglio di quella che è stata l'epopea del mega dungeon della community adesso come sempre la parola va a voi scrivetemi nei commenti qui sotto se vi è piaciuto quello che abbiamo tirato fuori se non vi è piaciuto perché non vi è piaciuto se volete proporre le vostre idee magari siete arrivati tardi per il concorso noi invece ci vediamo la settimana prossima se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è avuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche in descrizione trovate i link al server di discord al gruppo i telegram dove organizziamo questi eventi per il resto io sono il master che ha e noi ci vediamo nel prossimo video